Aumentano le prime nozze ma al tempo stesso ci si sposi in età più matura e si sceglie sempre meno il matrimonio in chiesa. Gli italiani negli ultimi dieci anni hanno mutato drasticamente i loro costumi e questo lo conferma anche la fotografia scattata dall'Istituto di Statistica Nazionale. Nel 2018 si sono celebrati 195.777 matrimoni, 4.500 in più rispetto all'anno precedente. Di questi il 19,9% sono seconde nozze. Uno degli aspetti che maggiormente evidenzia il cambio di rotta del bel paese e dei suoi abitanti è la percentuale di quanti scelgono il rito civile. Nel 1970, dunque quasi 50 anni fa, erano appena il 2,3%. Oggi si supera il 50%, ovvero 98.000 coppie. Qualcuno obietterà che si tratta in gran parte di seconde nozze, è vero, ma comunque i primi matrimoni, solo civili, sono il 31,3% del totale. In prevalenza le coppie che scelgono questa modalità risiedono al nord, il 41%, per poi scendere al centro, il 38,2% e il 20% al sud. Oggi ci si sposa molto più avanti negli anni rispetto a qualche decennio fa. In genere l'uomo ha 33 anni, mentre la donna 31 e nel 72,9% dei casi scelgono la separazione dei beni. La relazione annuale dell'Ista sui matrimoni in Italia presenta poi un capitolo dedicato alle unioni civili, come ci si aspettava in calo rispetto agli ultimi anni. 2.808 a fronte di 4.376 nel 2017. In genere si tratta di coppie maschili, mentre la regione, dove le unioni civili sono più diffuse, è la Lombardia.